Benvenuti al nostro consueto appuntamento con il telegiornale Per i Sordi. Un bambino di due anni e mezzo è morto la notte tra mercoledì e giovedì a Livorno dopo un malore mentre era da solo con la madre, straniera, in un appartamento del centro città. La donna era in vacanza senza il padre italiano del piccolo. È stata proprio lei, intorno alle 5 del mattino, ad avvisare il 118 dopo essersi accorta che il piccolo stava male. Purtroppo però per lui non c'è stato niente da fare. Nel corso di un vero e proprio drammatico trasporto in ambulanza all'ospedale il medico ha tentato tutte le procedure di rianimazione ma una volta arrivati in pronto soccorso non è rimasto che constatare il decesso. La squadra mobile di Livorno, coordinata dalla Procura, ha avviato tutti gli accertamenti per chiarire se si sia trattato di un malore o se la morte sia stata causata da altri fattori. Pare che il bimbo nel pomeriggio precedente fosse caduto da uno scivolo mentre stava giocando. e che non sembrava al momento avesse riportato nulla di importante. Poi durante la notte il malore fatale. Verrà proclamata una giornata di lutto in memoria di Diome Mande, il marinaio senegalese disperso a largo delle coste del Golfo Aranci a seguito della collisione avvenuta la notte del 10 agosto tra la nave passeggeri Mobi diretta a Livorno ed un peschereccio a largo dell'isolotto di Capo Figari. A renderlo noto la console della Repubblica del Senegal in Sardegna che sta seguendo attentamente le ricerche del disperso. Continuano le reazioni politiche a Firenze dopo le frasi del libro autoprodotto del generale Roberto Vannacci che guida l'Istituto Geografico Militare. Secondo il capogruppo del PD a Palazzo Vecchio, Armentano, le parole di Vannacci sono una vergogna a maggior ragione perché pronunciate da una persona che rappresenta l'esercito con un ruolo di primo piano in un'istituzione preziosa per la città di Firenze come il Geografico e per il Paese. Istituzioni, prosegue Armentano, che non meritano di essere svilite da tutt'attoni e parole così aberranti. In un mondo che si divide tra chi vorrebbe buttare il generale all'inferno e chi vorrebbe farne un martire, chi serve il Paese guidando protempore un'istituzione come la difesa deve solo limitarsi a mantenere di stacco ed applicare regole e norme, nulla più, nulla di meno. Queste le parole sul caso del generale Vannacci del ministro della difesa Guido Crosetto. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha firmato questa mattina per il salario minimo a renderlo noto lui stesso con un post salario minimo subito si legge una battaglia di civiltà che può cambiare in meglio la vita delle persone. Ogni lavoratore merita un guadagno dignitoso firmiamo tutti per un Paese a concluso Nardella più giusto. Ancora atti vandalici alla Casina dei Ricordi di Viareggio realizzata per commemorare le 32 vittime della strage ferroviaria del 29 giugno del 2009 via Ponchieli, scusate. A denunciarlo il presidente Gui Giuliano Bandoni presidente di una società che si occupa da sempre nella cura del luogo come persona che tutti i giorni da 14 anni presto il mio volontariato in questo luogo soffro nel vedere la malvagità che regna nell'essere umano. Da mesi sono iniziati atti vandalici spaccate statuette strappati i fogli dei diari che sono all'interno delle casine distrutte piante e rotti cartelli. Tre docenti dell'Università di Pisa hanno ricevuto altrettante sanzioni dal Senato accademico per la violazione del codice etico dell'Ateneo. In un caso un professore aveva offerto il proprio alloggio ad un ricercatore chiedendo in cambio il pagamento di un affitto peraltro mai pagato e così arrecando un danno di immagine all'istituzione accademica. Negli altri due casi sono stati sanzionati due docenti che hanno messo in atto non appropriate una sorta di avance nei confronti di due studentesse. I provvedimenti compaiono sull'albo universitario. Cinque fogli di via da Firenze e quattro avvisi orali sono le misure di prevenzione prese dal questore di Firenze a Uriemma contro i nove antagonisti denunciati lo scorso 17 di agosto per l'occupazione abusiva dello stabile sgomberato dalle forze dell'ordine in via Ponte di Mezzo. Le misure riguardano sei uomini e tre donne. Per cinque di loro residenti nel capoluogo è scattato il foglio di via obbligatoria nei loro comuni di residenza che sono in Toscana con divieto di rimettere piede nel capoluogo di regione da uno a tre anni. Nido record di tartarughe marine careta careta all'isola d'Elba sono 104 quelle nate a Galenzano e a Campo nell'Elba dove sono state depositate 127 uova con un successo di schiusa di oltre l'82% è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri davanti ad una piccola folla che ha assistito in silenzio all'escavazione del nido. Prorogato fino al 20 di agosto il codice rosso per il caldo a Firenze questi gli aggiornamenti del Ministero della Salute l'ondata di calore attualmente in corso vedrà una temperatura massima percepita oltre ad oggi con 37 gradi 38 domani e 37 domenica ieri il record è stato raggiunto all'orto botanico di Firenze in pieno centro con 37 gradi virgola 5 non mi riconosco in una forte dei marmi che vive e sopravvive solo perché parla russo questo paese parla turisticamente per più del 52% italiano e tra il 48% della clientela turistica estera c'è chi parla certamente il russo e l'ucraino ma anche l'inglese l'arabo il francese ed il tedesco ed altro ancora queste le parole del sindaco Bruno Mursi che respinge l'immagine che in tempi recenti viene data alla località della Versilia anche in replica ad un regente servizio del Financial Times che descrive Forte dei Marmi luogo di russi in vacanza o addirittura in esilio e siamo e siamo prima di concludere allo sguardo alle previsioni del tempo per domani sabato in Toscana cielo sereno poco nuvoloso venti deboli mari poco mossi temperature in lieve aumento con massime fino a 38 40 gradi ed è tutto per questa edizione grazie e arrivederci ai prossimi appuntamenti